però non capisco perché considerare il primo posto della settimana scorsa non meritato e questo perché ultimo meritato la coreografia era più difficile questa o quella della settimana scorsa questa tecnicamente tu ogni volta che c'è la tecnica dove sei concentrata a contare esatto e quindi ti scontri con quello che è un tuo problema giusto ok allora magari chiedi più lezioni quando c'era una coreografia tecnicamente impegnativa in modo tale da riuscire a superare quello no però non pensare che necessariamente la settimana scorsa chissà perché e quest'ultima è quella giusta pensa che siano giuste entrambe